La dimensione di Satana La prima cosa da fare quando si decide di seguire la via di Satana è cercare di comprendere chi è Satana. Questo è fondamentale nella nostra relazione con lui affinché possiamo ricevere tutti i benefici che ci può concedere. Satana è un essere creatore, un dio della stessa grandezza e magnitudine del dio dei cristiani, solo la sua personalità e il modo in cui agisce sono diversi. Non possiamo considerarlo come un'entità spiritica, né possiamo sminuirlo o mancargli di rispetto dandogli una posizione inferiore a quella che occupa davvero in questo universo infinito e misterioso. È comune che le persone desiderino vederlo, toccarlo, in breve, pensino che sia solo uno spirito e come tale possa essere visto o invocato in rituali. Ciò non è possibile in modo così semplice. Satana è un dio presente e comunica con noi, ma principalmente attraverso intuizioni e sogni. È quindi necessario aprire il nostro canale spirituale, accettarlo come il nostro unico dio, ma in modo sincero e dedicato, poiché conosce il cuore di tutti. Agendo in modo leale e vero, sarete in grado di sentire la sua voce nella vostra mente rispondere alle vostre domande, darvi indicazioni, indicarvi sempre la migliore strada o soluzione. Siate anche attenti ai segni sottili che ama lasciarci, soprattutto attraverso il numero 6, che è il suo marchio preferito. Non dimenticate mai il suo insegnamento, è necessario avere gli occhi per vedere e le orecchie per sentire. Salve Satana!